Quarta corsa premio Latest Record, un miglio per i puledri, sono in 9 al via, la prima fila per Apache del Circeo, Agiaccio, Anita Clema, Ramore di Noa, Badia, Antonia Ciacchessem e Alessia, seconda fila per Adonis del Ronco e Atena CRP. Rinuncia al lancio il numero 7 di Alessia, parte piano anche Antonia Ciacchessem, allo stacco cerca di emergere Anita Clemar, che scavalca Agiaccio Apache del Circeo mentre è di galoppo Amore di Noa. Il lancio di Anita Clemar in 13.6, precede Agiaccio, Apache del Circeo, Atena CRP, all'esterno Abbadia, in terza ruota Antonia Ciacchessem che scavalca proprio Abbadia, nella scia della quale c'è Adonis del Ronco con all'interno Alessia, in coda Amore di Noa, rimesso. Agiaccio nel frattempo sposta e rileva il comando da Anita Clemar, mentre Antonia Ciacchessem riesce a parcheggiare in terza posizione, Agiaccio comanda su Anita Clemar, Antonia Ciacchessem che dopo aver parcheggiato per breve tratto in corda, si affaccia nuovamente all'esterno. Quando siamo verso il paletto di metà gara, in quarta posizione c'è sempre Apache del Circeo, metà gara in 1-1-2 per Agiaccio, quindi si viaggia sul piede dell'1-16-5 con Antonia Ciacchessem che insiste e va al salchi di Anita Clemar, avanza ma sbaglia Abbadia. Allora Agiaccio guida liberamente dopo un primo giro da 1-16-1, avendo sempre in scenita Clemar, ripiega terza Antonia Ciacchessem che ora ha problemi di andatura e finisce con lo sbagliare. Sostituita in terza posizione da Adolis Del Ronco che avanza dalle retrovie, trascinandosi Alessia che supera la fallosa Atena CRP. Agiaccio allunga e prende vantaggio da Atena, Clemar e Adolis Del Ronco, poi Alessia con Agiaccio che sta affrontando in vantaggio la retta d'arrivo, anche se sembra ora un po' in difficoltà. Ci prova soprattutto Adolis Del Ronco ma anche Alessia incisiva centropista, Anita Clemar non migliora più di tanto, Alessia e Adolis Del Ronco all'inseguimento di Agiaccio che sembra in difficoltà. Con Adolis Del Ronco che sta recuperando sul leader, lo attacca ma il palo è vicino, sul palo è di galoppo Adolis Del Ronco e allora Agiaccio sfugge ad Alessia. L'errore di Adolis Del Ronco in zona proibita, 2-3-2 sul mio cronometro perché il finale è stato decisamente meno brillante da parte del leader. 1-17 la media per l'allievo di Manuele Matteini che si è salvato dal contemporaneo attacco di Adolis Del Ronco, soprattutto quest'ultimo che ha, vedete, confuso il passo proprio a 15 metri dal traguardo perdendo malaguratamente per lui ogni piazzamento e quindi seconda Alessia, terza Anita Clemar, 2-7-3. Grazie a tutti.